Spettacolo Dicevo se vi interessa vedere lo spettacolo, seguire o volete essere informati sul viaggio, sugli spettacoli sul menu sotto c'è scritto nome, mail se volete lasciarmi la vostra mail, il vostro recapito vi metto nella mia mail list e riceverete tante cose che accadono grazie e voi bambini, scusate le parolacce per intanto no, sono bella, no? no, scusate le parolacce è interessante, era lui la parolacce poi diciamo, pensiero pensiero di scappo poi era un problema educativo grazie grazie grazie